Dopo Massimiliano Alvini alla Cremonese, anche Davide Nicola è stato esonerato in questo gennaio di Serie A 2023. La Salernitana si affida quindi a un nuovo tecnico, salutando quello che l'aveva portato la scorsa stagione alla clamorosa permanenza in Serie A, la salvezza della Salernitana. È stata una bella storia, così come è stato un buon inizio di campionato per la Cremonese, almeno per quanto riguarda il gioco espresso. Poi certo, i risultati non stanno arrivando, si rischia la retrocessione e la società corre ai ripari. Un meccanismo che abbiamo visto in atto tantissime volte e infatti il sito Calcio e Finanza è andato a raccogliere dei dati molto interessanti. Considerando anche la stagione in corso, di cui ovviamente abbiamo una proiezione parziale, ha calcolato come mediamente cambiare allenatore in Serie A nel corso della stagione porta dei vantaggi in termini di media punti. Vediamo infatti che dalla stagione 18-19 alla stagione 22-23 si ha una media punti degli allenatori esonerati, naturalmente prima dell'esonero, di 0,82 a partita, mentre una media punti degli allenatori subentrati di 1,11. Una differenza in media di 0,29 con un picco proprio in questa stagione, in cui si va da 0,39 degli esonerati a 1,10 dei subentrati. Come si specifica sotto, naturalmente non si deve guardare alla differenza come ad un'inezia, perché si parla di punti a partita, quindi se nella singola partita 0,29 non è nulla, in una proiezione di una decina di partite possono essere dei punti significativi che portano agli obiettivi stagionali, in particolare alla salvezza. Ecco, intanto parliamo di media punti molto basse, quindi stiamo parlando, come in effetti accade, di esoneri da parte di società che lottano per non retrocedere, e che quindi di per sé hanno un andamento piuttosto lento in Serie A in termini di punti accumulati. Infatti, è raro che società di vertice in Serie A cambi un allenatore nel corso della stagione. Non è soltanto un problema della Juventus, in questo senso. Ma com'è andata realmente in termini appunto di obiettivi stagionali? Cioè, una cosa è la media punti, e come dice Calcio e Finanza, effettivamente c'è un miglioramento. Altra cosa è riuscire a salvarsi invece di retrocedere. O comunque il posizionamento in classifica, più in alto e più in basso, che comunque, ricordo, vale dei soldi in termini di premi. E allora mi sono preso la briga di andare a controllare. Per esempio, la grafica è di Transfer Mart, nella stagione 2017-2018, solo in 5 casi su 10 avvicendamenti in panchina, il subentrato ha fatto meglio dell'esonerato in termini di posizionamento. E addirittura, come nel caso del Benevento o del Crotone, dove fu esonerato proprio Davide Nicola, la retrocessione che si voleva evitare è arrivata allo stesso. Nella stagione 18-19, sempre grafica Transfer Mart, abbiamo una percentuale ancora minore del 50% della stagione precedente. Quattro miglioramenti di posizione in classifica su 12 avvicendamenti totali. Le cose tornano ad andare un pochino meglio nella stagione 19-20, dove su 13 avvicendamenti, sei hanno portato ad un miglioramento della posizione in classifica. Ma, se guardiamo al caso del Brescia, questo non ha comunque impedito la retrocessione. Oltre il 50% di efficacia, invece, nella stagione 20-21, dove ci sono stati solo 7 esoneri, visto anche il calendario molto particolare dopo il lockdown, quattro dei quali hanno portato ad un posizionamento migliore in classifica. Ma, anche in questo caso, se guardiamo di nuovo il caso del Crotone, Cosmi, rispetto a Stroppa, comunque non è riuscito a portare alla salvezza. Infine, per la stagione 21-22, sono 6 su 12, ma in realtà 11, perché abbiamo un interim, gli effetti positivi, quindi il posizionamento migliore raggiunto dal subentrato rispetto all'esonerato. Ma, anche in questo caso, se guardiamo il Genoa, Blessing non è riuscito a salvare la società rispetto a Conco, che era a sua volta subentrato a Shevchenko, che era a sua volta subentrato a Ballardini, e, paradossalmente, Ballardini lascia 17esimo, mentre Blessing finisce 19esimo. Oppure il Cagliari, che manda via Semplici 16esimo e finisce con Mazzarri 18esimo, che poi viene sostituito da Agostini ad interim, che sempre 18esimo finisce. Mentre abbiamo il caso molto significativo di Tudor rispetto a Di Francesco, ma ricordiamo come la data mostra di Francesco è stato esonerato a inizio stagione, e lì c'era proprio un problema di gioco più che di posizione in classifica, con Tudor che poi ha ottenuto una nona posizione di tutto rispetto per il Verona. Ora, in effetti, al di là dei dati, il punto qual è? Che cambiare l'allenatore nel corso della stagione solo per ottenere un risultato migliore non sempre paga. Si alzerà anche il punteggio medio a partita, e quindi ci sarà anche, in media, in media, una prospettiva di migliorare la classifica. Ma, come vedete, a conti fatti prevalentemente non è così. E quindi mi permetto di portare avanti la mia battaglia. Gli allenatori vanno esonerati quando non lavorano bene e non danno un gioco alla squadra, non quando sono ultimi in classifica o hanno una posizione compromettente. Bisognerebbe lasciarli lavorare perché così possono ottenere risultati migliori nel medio e lungo periodo. Invece, molti presidenti e dirigenti di Serie A, ed è una peculiarità italiana rispetto ad altri campionati dove si esonera meno, hanno la fretta del risultato immediato. E la colpa ricade sull'allenatore, quando magari dovrebbe essere mandato via o dovrebbe essere il ritorno responsabile anche o solo il direttore sportivo che ha allestito male la squadra. Faccio proprio il caso, non tanto di Nicola, ma di Alvini. La Cremonese ha mostrato dei valori, gioca a calcio molto bene. Ora, chi lo dice che è mandato via Alvini, la Cremonese riuscirà a raggiungere l'obiettivo della salvezza? E a quale costo poi? Peggiorando il gioco o continuando a migliorarlo? Cioè, riuscendo a far meglio anche di quanto bene aveva fatto Alvini? Siamo di fronte ad un bivio, il gioco da una parte, i risultati dall'altra. Ma ci si confonde sempre. Lungo la strada per i risultati non sempre trovi il gioco, mentre lungo la strada per il gioco i risultati poi li trovi. Lungo la strada per i risultati non sempre trovi i risultati non sempre trovi i risultati. Lungo la strada per i risultati non sempre trovi i risultati non sempre trovi i risultati. Lungo la strada per i risultati non sempre trovi i risultati non sempre trovi i risultati non sempre trovi i risultati.